Musica Arriva il giro nella marca, domani a Treviso, giovedì passa per Treviso, vi raccontiamo tutti i divieti e le limitazioni. Cassugrana decide che per il giro giovedì le scuole vanno chiuse anticipatamente, i genitori lo scoprono oggi ed è bagarre. Incidete sul lavoro a Ponte di Piave, il figlio del titolare viene travolto da un bancario, è ricoverato d'urgenza, non è in pericolo di vita. Ferma l'auto per una visita ma dimentica il freno a mano, curioso parcheggio oggi pomeriggio al buon Bozzolla di Soligo. Dopo il CDA che ha rimandato la causa civile verso gli ex dirigenti, Veneto Banca guarda il sondaggio sulle azioni, da giovedì inizia la prova verità. Roma tratterà l'autonomia del Veneto solo dopo il referendum, ma non con quello del Senato, dice, così si spenderanno 14 milioni di euro. Ieri sera a Sant'Artemio, dopo 70 anni della Costituzione, è l'ultimo atto della provincia, ma il Presidente non molla, non sono pronto per la pensione. Due nuove trincele lungo il Piave, altre nuove da recuperare, ecco il progetto per una marca turistica sulle orme della Grande Guerra. E buonasera da Treviso, apriamo con il Giro d'Italia che domani invaderà pacificamente la marca, partendo dalle colline asolane, anzi per la precisione dalla Castellana, mentre poi giovedì passerà per Treviso dopo essere entrato dalle parti di Mogliano. Allora, tutti i particolari con il servizio di Anna Maria Parisi per capire le limitazioni, le deviazioni e quant'altro. Arriva il Giro nella Marca, due le tappe che attraverseranno la nostra provincia. I 229 chilometri della Modena-Asolo di mercoledì 18 maggio e i successivi 182 chilometri dell'annuale Bibione di giovedì 19 maggio, che blinderà da metà mattina una parte del capoluogo trevigiano. Sarà una due giorni di passione per il trasporto pubblico e privato, con nuovi percorsi e sospensioni per i bus e le corriere, e con divetti di sosta, deviazioni al traffico e presidi di carabinieri, vigili urbani e polizia, con oltre mille uomini impegnati nella macchina della sicurezza. Mercoledì per l'undicesima tappa che arriva ad Asolo, chiuse le strade interessate dal Giro già dall'ora di pranzo, con l'arrivo previsto intorno alle 16, indicato in rosa il percorso che entrerà nella zona di Castelfranco e percorrerà la zona di Altivole. In particolare a Casella d'Asolo sarà l'arrivo di tappa. I ciclisti percorreranno tutto l'anello della forcella Mostacin per scendere poi di nuovo a Casella d'Asolo. L'ingresso in provincia è previsto intorno alle ore 14, 14.30 e la chiusura della viabilità avverrà intorno alle ore 13, su per giù e rimarrà chiusa per almeno 4 ore. Per chi sarà obbligato a spostarsi, ecco indicata in blu la viabilità alternativa. Da Castelfranco Veneto verso nord passa per Castello di Godego, Loria, Fonte, Paderno del Grappa attraverso la SP20 e poi Possagno, Pederobba attraverso la SP26 per andare poi sulla Feltrina. Il giovedì 18 dalle 12 fino alle 16 si replica nel capoluogo, con il giro che in arrivo ad annuale è previsto entrerà a Mogliano per le 14.00. A Mogliano Veneto poi uscirà dalla Ponte Bana per andare nella zona est e raggiungere poi Silea. A Silea poi ripartirà verso nord, sempre sulla Ponte Bana, per poi uscire dalla Ponte Bana nuovamente e raggiungere il casello di Treviso Nord, quindi Lancenigo-Villorba. Successivamente proseguirà verso Maserada, Tezze e poi direzione est o verso Motta di Livenza per uscire dalla provincia di Treviso. Attenzione, per giovedì sconsigliati i caselli di Preganziol sul passante e quello di Treviso Nord sulla 27. Verrà consigliato anche attraverso le comunicazioni sui pannelli a messaggio variabile autostradali l'uscita a Treviso Sud per chi deve raggiungere Treviso. E adesso invece sentiamo cosa sta succedendo invece in città, dove giovedì, avete sentito, passerà il giro. Ci sarà praticamente tutto il centro blindato, chiuso e allora Casugana ha deciso di chiudere anticipatamente le scuole mappare non abbia comunicato i diretti interessati. Passa il giro ma in pochi lo sanno, specie negli istituti dei comuni interessati al passaggio. La comunicazione agli studenti delle superiori soltanto all'ora di pranzo di oggi, a due giorni dall'arrivo del giro, dice Furibondo, il portavoce dei genitori che in provincia rappresenta oltre 10.000 famiglie. Ormai siamo nel primo pomeriggio, quindi è impensabile che una disorganizzazione del genere possa influire sull'incolumità dei ragazzi che magari si trovano alle 10.45, soprattutto se minorenni fuori di scuola e le famiglie non lo sanno. Nel capoluogo possibile dunque il blackout totale del traffico con ingorghi e possibili imbuti dovuti sia alle previste deviazioni e chiusure di certe strade, sia per la tardiva ordinanza con cui il sindaco di Treviso ha deciso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado dall'endice 30 per permettere il deflusso degli studenti, si legge. Il giro d'Italia è stato organizzato un anno fa, le date comunque si sapevano già da tempo e quindi ci si poteva organizzare sicuramente molto meglio. E mentre Silea ha ordinato la chiusura di tutti i plessi scolastici per l'intera giornata per evitare disagi con macchine in sosta fuori dalle scuole mentre passa il giro, a Casale il sindaco ha previsto invece la chiusura anticipata delle lezioni del mattino nei plessi del centro di Lughignano e Conscio. Giovedì, addetta della stessa portavoce della Polizia Municipale del Capoluogo, regnerà il caos dove il transito della carovana è atteso dopo le 12.30. Treviso appunto sarà difficilmente percorribile. Via Postumi e Viale 4 Novembre, una buona parte del Put, Viale Vittorio Veneto e Viale Feli senti in direzione Villorba le strade interessate dal percorso. Ricordiamo una cosa importante di preferire la percorrenza della tangenziale per gli spostamenti da nord a sud. E noi vogliamo dedicare il Tg Lina Aperta di questa settimana proprio al Giro d'Italia, a un evento positivo o negativo, Giro d'Italia, di festa o di disagi? Dite la vostra come sempre attraverso il 340-321-8806 oppure con una mail o facendovi sentire come sempre. Come sempre noi poi al termine del telegiornale leggeremo i vostri messaggi. Rimandiamo a parlare di strada perché ci sono stati i controlli straordinari dalla Polizia Stradale di Treviso, lunedì all'esterno del casello autostradale di Treviso Nord. Sono state i 22 mezzi infermati, di cui 17 camion e 5 corriere. Tra le persone coinvolte sono stati fatti dei test e ci sono stati due conducenti positivi alle anfetamine. Quindi vuol dire che probabilmente erano camionisti che dovendo fare lunghi viaggi ovviamente hanno utilizzato del materiale sicuramente non idoneo. Invece, sempre per la cronaca, parliamo adesso di un infortunio sul lavoro, grave infortunio sul lavoro a Ponte di Piave presso la ditta Transpiave in Via delle Industrie. Un 29enne di Salgareda, Riccardo Ortuso, figlio del titolare, stava aiutando altri operai a scaricargli un camion quando un bancale si è sbilanciato e lo ha schiacciato. Il giovane non è in pericolo di vita ma ha portato lesioni importanti. A soccorrerlo il suo è il 118 che lo ha trasportato immediatamente all'ospedale di Oderzo per gli accertamenti sul posto, oltre che lo spisa, sono intervenuti i carabinieri. Ritorneremo più tardi con la cronaca. Invece adesso ci spostiamo per parlare di autonomia a Venezia perché il governatore Zaia è riduce da un incontro, scontro, ma pare che insomma qualcosa stia cambiando a Roma. Lo facciamo non perché ce lo concede il governo ma perché abbiamo vinto davanti alla Corte Costituzionale. Io spero vivamente di farlo entro fine anno. Autonomia del Veneto, ora il governo dice di fare il referendum, poi ne parliamo. Per alcuni un passo avanti rispetto alla chiusura totale del Premier Renzi, per altri solo l'allungamento dei tempi, per evitare che lo scontento dei Veneti si rifletta sulle amministrativi di giugno e soprattutto sul referendum di riforma del Senato di ottobre. Ecco perché per i critici il governo dice sì al referendum regionale, ma non lo vuole accorpare a quello costituzionale. Ecco perché invece il Presidente della Regione insiste per la stessa data. Prima di muovermi annuncio che sto per scrivere una lettera da mandare al governo per chiedere che venga messo in calendario il nostro referendum, quello dei Veneti, con quello nazionale di Renzi. Chiaro anche sulla trattativa che si aprirà in seguito. La trattativa significa portare a casa competenze e far restare le tasse sul territorio. Se dobbiamo chiudere una partita che non porta nulla ai Veneti, non firmerò mai. Un percorso comunque in salita, quello per l'autonomia, anche considerando la variazione costituzionale già approvata a Roma. L'attuale Costituzione ci concede 19 materie sulle quali trattare. La futura Costituzione, quella del referendum di Renzi, le 19 diventano 6 materie. Questo la dice lunga anche su come bisogna votare al referendum di Renzi. L'obiettivo per Zaia è uno solo. Partiamo da un presupposto che nella Costituzione non è vietato aggiungere dopo la parola Trento e Bolzano, Veneto. Ci siamo già capiti. E adesso invece da Venezia, perché ci sposiamo leggermente a Mogliano, ma parliamo comunque della Regione perché pare che ci siano dei problemi ulteriori per il Gris di Mogliano. Sapete che il Gris è controllato da un commissario regionale. Pare che c'era un piano per cercare di coprire i debiti, anche un accordo con l'Urs per trasportare lì il distretto sociosanitario. Oggi invece il sindaco Carola Arena esprime tutto il suo disappunto perché stanno arrivando notizie dalla Regione per le quali praticamente il piano di risanamento non sarebbe più valido e quindi il buco invece si sarebbe allargato. Allora il sindaco esprime la sua pressione e dice noi speriamo che la Regione del Veneto continui a metterci le mani. Del resto è lei che ha questa responsabilità perché non si perda questa struttura importantissima per il territorio, ma per tutto il Veneto. E adesso invece parliamo di economia. Stiamo seguendo l'affaire Veneto Banca da diverso tempo. Ieri c'è stato un consiglio di amministrazione, ci sono state importanti decisioni, però diciamo così la prova del 9, come si diceva una volta, inizierà giovedì. Allora tutti i particolari nel prossimo servizio. Veneto Banca, ora la sfida è sul valore delle azioni. Ieri il CDA ha di fatto commissariato Cristiano Carrus, passandolo da amministratore delegato a direttore generale. Poi ha indicato chiaramente che se non ci sarà la ripartenza della banca con gli azionisti creditori, che mettono mano al portafoglio, questa dirigenza non andrà alla causa civile contro chi ha portato la banca di Montebelluna su questi scogli. Navigazione difficile fra un mercato deluso e scettico, che ha già rigettato la gemella vicentina, e lo spettro del Fondo Atlante, pronto ad entrare, ma che non vuole avere limiti di azioni e successioni, chiusure filiali e accorpamenti. Tutto si gioca da giovedì, quando inizierà l'indagine di mercato sull'interesse per le azioni e su quanto si sarebbe disposti a spendere per l'acquisto. E qui conta tantissimo la fiducia, perché ai conti alla mano per il miliardo di euro richiesto ad oggi, il valore del titolo non copre l'indebitamento. Benetobanca ha 0,10 centesimi come la vicentina. C'è chi scommette di no, rilanciando ad un euro per azione. Per primi chi l'aumento ha già annunciato di sottoscriverlo. E sono soprattutto gli imprenditori, perché con la banca non hanno solo crediti, ma soprattutto fidi aperti e garantiti da azioni. Chi rischia comunque di rimanere schiacciato in tutta l'operazione sono i piccoli, azionisti che non hanno soldi per rilanciare, ma anche artigiani o piccoli industriali a rischio liquidità. E per questo la Regione sta studiando con Veneto Sviluppo una vera e propria scialuppa di salvataggio. Noi vorremmo appunto creare un fondo specifico per queste situazioni. Cioè per quali aziende? Per quelle che hanno avuto in garanzia le azioni che hanno acquistato, per fidi o mutui, e adesso appunto non avendo più un valore di garanzia, magari rischiano di dover rientrare con il fido e non avere la capacità di farlo. Quindi sostituire quella garanzia che prima era appunto di azioni bancarie con quello che può essere una garanzia di Veneto Sviluppo. Adesso noi parliamo sempre di Veneto Banca, per l'altro avete visto Sveglia Veneti, domani avremo l'assessore Elena Donazzan, quindi 8 e 10 non mancate, perché comunque di argomenti ce ne sono molti. Dicevamo che un segnale positivo per Veneto Banca arriva dal presidente delle casse di risparmio italiane, Giuseppe Guzzetti, che durante un incontro ha parlato del Fondo Atlante, ma anche di Veneto Banca indirettamente. Dice, vediamo come finisce la vicenda Veneto Banca, se come dicono in molti ci dovessero essere risposte di mercato, rimarrebbero solo la vicenda vicentina e le altre sofferenze per il Fondo Atlante. Quindi vuol dire che i segnali potrebbero essere positivi per l'aumento di capitale e quindi Veneto Banca potrebbe non essere gestita dal Fondo Atlante con annessi e connessi che vi abbiamo già raccontato. Continuiamo di sicere su questo perché ci sono tantissimi piccoli e grandi azionisti che seguono con molto interesse e molta apprezzione gli sviluppi della Banca di Montebelluna. Adesso invece di sviluppi non ce ne sono più invece per la provincia di Treviso che ieri sera ha tenuto l'ultimo consiglio provinciale con tanti ex presidenti. Pensate che è una provincia che ha 140 anni e da 70, visto che appartiene alla Costituzione italiana, era attiva inizialmente a Palazzo Scotti. Allora la storia nel prossimo servizio. Sono le immagini di 70 anni di provincia di Treviso da Palazzo Scotti dove nel 1945 si riunì per la prima volta questo organo di governo territoriale voluto dalla neonata Costituzione italiana. E sono le immagini proiettate ieri sera durante l'ultimo consiglio della storia della provincia come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Presenti alcuni dei tanti presidenti che si sono alternati tra Palazzo Scotti, la sede di Via Battisti e il Sant'Artemio. Tanta l'emozione nei ricordi dei progetti realizzati quanto il ramarico per ciò che non è arrivato in porto. E da domani la provincia come ente nato dopo la seconda guerra mondiale non esisterà più. E adesso un 90 zone di commissariamento perché la legge di stabilità prevede che devo rimanere qui assieme alla Giunta facendo le funzioni anche al Consiglio Provinziale per 90 giorni in attesa della conferma delle elezioni a ottobre se ci saranno, ma io ritengo anche in previsione di quello che sarà l'esito del referendum che si terrà ad ottobre. Già perché se non dovesse passare alla riforma del Senato cambierebbe la sorte anche delle province. Se non passa il referendum sul Senato che è la parte più importante ma però questo referendum del titolo qui della Costituzione prevede tantissimi altri drenaggi dal territorio per portare direttamente a Roma. Significa che l'ente provincia mantiene la sua autorevolezza e la sua autonomia all'interno della Costituzione. Insomma i prossimi mesi potrebbero riservare ancora dei colpi di scena tra i palazzi e il Sant'Artemio ad iniziare dal nuovo Presidente Sindaco tutt'altro che scontato. E Leonardo Muraro cosa farà? Leonardo Muraro continuerà a fare il Presidente ci accompagnerò alle nuove votazioni quando si svolgeranno l'ente provincia e dopo di che penseremo a cosa fare. Pensione? Ah cioè io ho anche 60 anni per cui diciamo che non sono un quarantenne che è una prospettiva di pensione a 20-30 anni per cui insomma vediamo la situazione come può andare. E adesso invece dal Presidente della provincia andiamo all'assessore alla protezione civile e alla caccia che però è un grande appassionato essendo appunto va a caccia anche di reperti della Prima Guerra Mondiale. Micolo Lorenzon oggi ha presentato un itinerario davvero singolare da sfruttare anche per quello che si potrebbe dire il turismo della Grande Guerra. Allora vediamo il servizio. Il raduno si terrassa a letto di Breda di Piave uno dei luoghi della nostra storia è qui che le nostre truppe italiane oltrepassarono il confine austro-ungarico ed è qui che sono stati appena rinvenuti e portati alla luce due nove trincee con altre nove da recuperare tutte risalenti al primo conflitto mondiale. E sarà il più grande percorso della Grande Guerra diciamo del Veneto ma sarà un percorso, il più grande percorso perché sarà l'unico percorso veramente accessibile da tutti perché si potrà arrivare lì con un pulmino o con un pulma quindi portare i ragazzi anche dalle scuole elementari e medie nel luogo. Percorso storico che ha stampato i suoi slogan del giugno del 18 pure nelle t-shirt. È meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora il Piave o tutti eroi o tutti occupati e queste qua saranno messe in venta e ricavato verrà data a questa situazione per ricoprire le trincee per altre attività per la Grande Guerra. Domenica 22 il ritrovo al Sacrario di Fagareda dalle 9 quindi la Santa Messa con il coro alpino e dalle 10.30 la visita guidata da Saletto di Breda ai luoghi della battaglia del Piave. Il Piave rappresenta sacrificio rappresenta patriotismo rappresenta nazionalismo sono dei valori che sono importantissimi La manifestazione verrà fatta in via del Passo a Saletto di Piave una frazione di Breda dove ci sono le trincee della Grande Guerra è combattuto è combattuto ha fatto da supporto al nostro esercito anche Ernest Hemingway a Monastier abbiamo l'unico caduto americano che è sepolto presso il monumento di Fagareda che è il tenente Mackey E adesso l'avete sentito dei titoli anzi l'avete anche visto facciamo rivedere il singolare parcheggio di oggi in quel di Soligo un parcheggio lungo oggi pomeriggio a Soligo in via Sangallo tra gli stalli del centro di salute mentale in prossimità dell'IPAB Bombo Zolle il curioso quanto strano dell'episodio è capitato attorno alle 6.30 per la sorpresa dei passanti che hanno visto una Fiat Punto Azzurro come vedete spuntare da un terapieno e poi la parte superiore si è adagiata su una Fiat su una Panda bianca ovviamente a togliere degli impicci i proprietari delle due vetture coinvolte i caroattrezzi che vedete nelle immagini del nostro Daniele Colattuzzo dal resto questa è una situazione davvero particolare ci viene da dire ricordiamoci sempre di ottenere la marcia oppure di tirare il freno a mano perché poi sono conseguenze quanto meno fastidiose e siamo giunti al termine della nostra edizione del telegiornale come sempre siamo alla programmazione di questa sera con il Focus che torna con ogni martedì il governo risponde al presidente Zaia che il referendum sull'autonomia si farà senza precisare però quali dovrebbero essere i poteri in più che dovrebbe ottenere il Veneto di qui la domanda che mettiamo nel titolo di Focus vera autonomia oppure presa per i fondelli ne parliamo stasera in studio con Nicolà Talmi Floriano Zambon Antonella Tocchetto Riccardo Barbisan Manuel Brinanziale Roberto Agrimo e ovviamente parleremo anche di altro ovvero di migranti di banche e quant'altro soprattutto ci fidiamo di voi dei vostri sms che come sempre arricchiscono la serata con questo è tutto grazie a tutti voi per l'attenzione noi ci vediamo domani mattina 8 e 10 sveglia veneti con noi l'assessore Elena Donazzan grazie e buona serata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.